Ok, 43, no, no, sono troppo forti ste pistole Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio No, best, non puoi capire No, best, non puoi capire Oh mio Dio Oh mio Dio, ste pistole In questo nuovo video andremo a scoprire l'arma più potente, più assurda, più, più, più numitica di questo gioco Mi raccomando ragazzi, però, prima che inizi questo splendido video Vi ricordo, negli soggetti, supporta un creatore, digitate il solo Un codice creatore più bello, più figlio del mondo I codici che tutti prousano, mi raccomando Powa, sì, magari non scritto tutto maiuscolo tranne galappi Scritto in questo modo, P-U-D-O-P-H, come volete insomma scriverlo Con l'H alla fine, ma vi ricordo che non sono io Direi che possiamo subito andare in partita Ah, ci siamo anche con best Eccoci ragazzi, siamo in partita E siamo qua al santuario Il santuario di che cosa? Il santuario di... Il santuario di The Rock, se non sbaglio Sì, dovrebbe essere tipo il santuario di The Rock, comunque una roba simile Noi adesso siamo qui per trovare tutte le armi mitiche, fortissime, super fortissime E soprattutto le doppie pistole salterine Che sono pure appunto dal signor The Rock Che però non so dove, tipo dovrebbe essere qua dentro Spero che tu lo... Eh, da qualche parte credo, non lo so Io non lo vedo per fortuna per adesso Ma come da qualche parte? Io pensavo fosse sotto la mappa Però è vero che è un'osservazione davvero molto intelligente Sei troppo intelligente, best Io penso che tu devi andare a... A Zenik, devi andare Ma smettere a fare sta cavolo di battuta Dai adesso, non so, ci sono persone qua per caso, signor best? Eh no, io vedo solamente dei pompa e dei bot Come te, per esempio Ecco qua, signor fondazione, buonasera Anzi, lo scienziato si chiama Ed eccole qui le doppie pistole salterine Pua, ho capito che comunque parli il linguaggio dei bot Ma non c'è bisogno che li saluti, eh Non vorrei dire Come non c'è bisogno che li saluto? Sono dei bot, non sono delle persone Ma vabbè Oh, ma sì, ma bisogna voler bene anche i bot Scusa, cioè, tu non vuoi bene i bot? Ciao, piccolo bot Non tantissimo, sinceramente Però vabbè, vabbè Sei ben educato? Allora, comunque qua c'è un altro tipo Un altro boss che mi sembra che bisogna uccidere Questo me lo prendo io C'è un altro boss che qui bisogna uccidere Intanto io queste doppie pistole qua Oddio È troppo forte sto bot Oddio Ma che boh con chi stai giocando? No, 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 ucciso, 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 ucciso Meno male, cavolo Beh, stai, ascolta Dato che questo bot è veramente tanto, tanto forte Vieni da me che ci dovrebbe essere Il... Non so come si chiama in verità È tipo... Ha un nome strano Anzi, forse non ha proprio il nome Dovrebbe essere qui due queste parti Il bot di fondazione, intendi dire? Potrebbe essere quello, sì Comunque quello che ha tantissima vita È un boss comunque Gente, gente, gente Signor 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 cosa? Signor che? Signor Signor Da me, esattamente Non mi importa, non ci vengo C'è troppa gente Ma come non ti vieni, muovi Ti salvami Che qua No, ok Oddio No, è fortissimo sta roba No, è fortissimo sta roba No, è fortissimo Arrivo, 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 arrivo Ci provo a fare una kill Due, tre, quattro, venti Come è al solito, insomma, no? Ok, 43 No, no, sono troppo forti queste pistole Oh mio Dio Oddio Non so da dove No, no, no Best, queste pistole sono qualcosa di troppo esagerato, penso Esagerato come me, bua Oh mio Dio Uccidelo Ok, ho ucciso Let's go Molto ambiguo Guarda quante materiale avevano Molte macchine Queste cose sono aperte in là E forse c'è ancora un altro team Se non sbaglio Perché mi hanno asfaltato qualcuno Da non so dove Penso fossero loro Comunque veramente non puoi capire Best Queste qua sono le pistole forse più forti Che abbia mai visto Cioè sono qualcosa di esagerato Cioè molto più forti di te Siamo proprio Ti prendi sur class Prego non dire cavolate adesso però Ma aspetta ma signori best Ma dato che io Mi sono appena mangiato un peperoncino Inscivolata Quanto va veloce questa cosa Vediamo Io penso che sia normale Oh 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 No, bua Ma sei un genio Fra vai verso la safe Tu si che sei un pro player Adioso amico Fra me stavo provando a cercare di far tipo una super Oh Ma quello veramente vola Ma quello veramente vola Ma chi è che vola C'è una tipo con la macchina Con la Lamborghini che È arrivato davanti Ha fatto Ma non me ne frega niente Ma dobbiamo andare in safe Perla Andiamo in safe Allora No Queste parole qua No Oh Ma Ciao bro Come stai Come stai Ciao Non mi puoi sparare Oddio me ne vado Me ne vado Boh C'è un team intero Me ne vado via con la jump No Non andartene Non andartene No No Ciao Ok l'ho distrutto Uno No ma sono in due qua da me Eh Ho provato ad arrivare Quindi Faccio la ritirata Vengo Sì 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 Vieni vieni muoviti veloce Arrivo arrivo Lo so che sei un po' scarso Però non ci muovere subito Ma fra ma io guarda che ti uso Solo per lo scudo Cioè assolutamente Ah Cioè sono tipo il porta medikit Aspetta Ok Distrutto uno No Sono scarso io Con il mio quad Boh Non ti preoccupare Ok distrutto Boh Morti tutti Morti tutti Però da me c'è altra gente Deve venire Deve venire Oh no L'avevo quasi preso al volo Non ci credo Comunque se i doppi pistoli Sono qualcosa di esageratamente forte Ma proprio Oh Arrivo Ci siete Sì da me Due Quattro Sei Otto Non so quanti Ok distrutti Bravo 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 Oh mio dio No raga No raga ste pistole No raga ste pistole No raga ste pistole Aspetta un attimo Devo fare fuori Ok Oh No 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 Ste pistole sono No no Veramente best Io non è che lo dico così Tanto per ste pistole Sono La cosa Più forte Del mondo Signor best Signor best Ma basta Ma quanta gente c'è 24 Gli ho fatto questo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ma dove Non lo vedo io No best Non puoi capire No best Non puoi capire Oh mio dio Oh mio dio Ste pistole Oh aveva anche il pompa Quello super mega dorato Questo E aveva anche questa Che Questa roba E che non ti viene qua Dammi tutto Ma dammi tutto Vabbè ti do questo Se vuoi che mi fa un po' schifo Sinceramente Prendilo pure Adios Non è anche a me piace Quindi via Basta Venga da me Venga da me Oh Oh Sta tremando tutto Cos'è Ma ti prima tutto cosa Ma ti sta tremando il culo Te lo dico io Ma stava tremando tutto Vabbè andiamo in safe Guarda questo come lo lasero Oh Boom Mamma mia Ma troppo Soffarti Complimenti Pua di giorno in giorno Mi stupisco Di più Per quanto Puoi essere Scarso E non notare Che dietro di noi C'è altra gente Ma dove Dietro di noi Dove Sono lì È un team intero Pua Se non li ammazziamo Adesso è finita Cavolo 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 Eh ma tu valli a pushare Io proprio Ma cosa faccio Con 4 di vita Ma ti prego Hai veramente 4 di vita Eh sì 4 di vita mortaggi Tuo ti prego Aiutami Problemino C'è questo C'è questo Ci sono Medikit Shield Eh questo Di quest'altro Mannaggini Grazie per l'aiuto Davvero Sei sempre il più utile Di tutti Dopo di me Ovviamente Oh no 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 C'è uno nel mio box No come nel tuo box Come pensare nel tuo box Eh eh Cavolo Cavolo Quasi Quasi morto L'ho asfaltato eh C'è due Un team Un team intero Contro di me Non va bene questa cosa Best Vai via Best Scappa Ma cosa cosa Io non scappo Sono troppo forte Per scappare Atterrato Atterrato Quanto sono forte Muori Piccolino Addio Se è avuto molta fortuna Però meglio Meglio sicuramente Che non sia morto Ce n'è uno sotto di te Ma se tu che stai sparando O no Perché Aspetta C'è uno sotto A uno sotto Non hai visto No Non hai visto qua sotto Ma è tutto bene Non ho bene Oh mio dio L'ho aperto Mamma mia Le doppie Pistole Oh mio dio Via Via Andiamo via Andiamo in safe Andiamo in safe Andiamo in safe Che qui Guarda questi qua Come ci lasciano le penne Guarda ci tiro una cecchinata Ho 181 Non ci credo Non so come ho fatto A prenderlo L'ho ucciso Oppure io Un altro No beh Se moriamo dopo questa Pusciamo 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 Fida di uno È praticamente morto A meno che non si curi No 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 Eh sono morto Sono morto Sono morto Dai tranquillo Ho fatti il medit Adesso arrivo Ok 43 Gli ho fatto Bravo Voglio sfaldarli Tutte e due Ma cos'è Ma è il mio bomb Ma tutti In il mio box Cos'è Sì Vabbè Un party privato Sì Belli party privati Tutti dentro il mio box Oh Morto 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 No 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 Vabbè ragazzi Cioè mi sto eccitando Ogni volta che uccido Uno con delle pistole Penso che È un piccolo problemi Qua Ma è chiuso nel box con lui Ma se proprio Ma madonna mia Pua Proprio questo qua Ce lo siamo proprio mangiate Vabbè ho fatto bene Hai visto Ho 10 kill Tra l'altro Nei conti Chi l'ha best Io ne ho due E per adesso mi va bene Beh dai Non è che fa schifo Due Poi soprattutto per i suoi standard Da me best Da me best Da me best Da me Best Sto distrutto Distrutto Oh mio dio Fra Fra mi diverto troppo con ste armi Ti giuro Ti giuro mi sto divertendo decisamente troppo con ste armi Ma dove cavolo andò da finire Ma tipo troppo 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 Ma tipo troppissimo ti giuro Oh un HP Un HP la starter Ah un HP Ok allora lo finisco io Te la stillo Te la stillo Potrai mai stillare Anche perché Lo prende poco questa kill Oh Da me nel mio box Devo stillarne tipo troppo No fra Guarda che ci muoio Cioè tu stai schifo La cosa ci muoio Ma non ci muoio mica Ci sono io Ma l'hai finito quello lì No No è di sopra È di sopra È di sopra Come deve essere di sopra Scusami Allora aspetta che Ce n'è un altro di sopra Ok ho capito Ho capito best Dobbiamo Non so se si è capito Ma ce n'è uno di sopra Aia 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 Ehi Powa Ce n'è uno qua sopra Ma stai zitto Ho capito Oh cavolo No no Mi ha fatto Ma ha fatto quello di sopra Powa Dai ce l'ho puoi fare Oh mio dio Chi era questo Chi era questo Era buga Posso ricordarti una cosa C'era uno di sopra Ragazzi spero che questo video vi possa essere piaciuto Porca macchina È stata veramente una partita colossale Proprio col sale E anche col sale Veramente molto molto bella Peccato che quello che ci ha ucciso Era un fenomeno Ma Non fa niente ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Mi raccomando Se ancora non l'avete fatto Supporta creatore Piovo do piacca con la craftine Così mi potete veramente Supportare al massimo Non un po' waga con la craft Cioè Si H alla fine ma senza G Piovo do piacca Come vedete esattamente qua sotto Di me con codici supporta creatore Vediamo domani Ore 13.45 Con un nuovo video Oppure stasera è live alle ore 20.30 Vi ricordo il mio merchandising Lo trovate qua sotto in descrizione Vi saluto e vi auguro una buona giornata Ciao 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 Ciao